Spesso ignoriamo la sua presenza, ma è sempre intorno a noi, nell'aria che respiriamo, nell'acqua come i mari, fiumi, laghi e oceani, nel suolo, nei campi coltivati, sino al cibo che arriva sulle nostre tavole. La troviamo nelle cose di tutti i giorni e ha cambiato le nostre vite. È una scienza centrale nella nostra società, è la chimica. Lo studio di nuove forme di energia, la ricerca in campo biochimico e medico, il progresso tecnologico in campo industriale, lo sviluppo di tecniche di analisi e di monitoraggio innovative, sono solo alcune delle branche della chimica, messe in campo per rispondere a quelle che sono le problematiche della società moderna. Il Dipartimento di Chimica dell'Università di Torino offre un percorso di studi unico e completo. Gli studenti e le studentesse avranno un'ottima conoscenza di base e scopriranno le principali tendenze della ricerca globale, di cui i nostri professori sono parte attiva. Non mancherà certo l'opportunità di mettere in pratica le conoscenze acquisite attraverso le numerose esperienze di laboratorio, che sono parte integrante del percorso formativo. Molte sono le sfide che attendono l'umanità nei prossimi decenni e gli studenti del Dipartimento di Chimica di Torino ne saranno i protagonisti.